Consiglio provinciale, accompagnato dalla consigliera Vittoria Succe dalla struttura apicale dell'ente di via Berte, il presidente della provincia di Sernia Roberto Di Pasquale ha voluto incontrare la stampa a 48 ore dalla riunione dell'assise provinciale che ha visto l'approvazione di tutti i punti all'ordine del giorno anche grazie al senso di responsabilità dimostrato da tutti i consiglieri. Di Pasquale nel suo intervento ha voluto fare il punto della situazione sul viadotto Sente, infrastruttura fondamentale per collegare Abruzzo e Molise. Finalmente abbiamo avuto la risposta dal provvedorato delle opere pubbliche della regione Campania, ci siamo presi qualche giorno per meglio capire le risposte che ci pervenivano e finalmente la struttura nel documento che vi abbiamo anche dato ci ha relazionato rispetto al fatto che possono in questo momento iniziare i procedimenti del progetto stesso che era stato presentato dalla provincia di Sernia, quindi nessuna bocciatura ma il provveditorato nella seduta del 26 giugno dove il CTA si era riunito alla fine ha dato un parere a che si possano iniziare questi lavori almeno per quanto riguarda il monitoraggio. Intanto il consiglio provinciale ha convocato una seduta monotematica per discutere di un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini. La sanità sul territorio Pentro alla luce degli ultimi avvenimenti. Il consiglio provinciale nella seduta dell'altro giorno ha deciso e ha dato un documento, votato l'unanimità, perché l'8 di agosto qui in provincia di Sernia ci sia un'adunanza pubblica aperta a tutte le parti sociali, associazioni, comitati, ma soprattutto invitati tutti i responsabili dell'ASREM, i commissari, i vertici della regione e soprattutto tutta la nostra rappresentanza parlamentare, anche non eletta sul territorio, ma comunque chiunque si senta di voler e di poter rappresentare le esigenze della sanità regionale, noi chiediamo che sia presente l'8 di agosto. Capiamo che la data è particolare, ma come diceva anche la consigliera Succi Pocanzi, l'argomento è tale che non penso che sia l'8 di agosto il problema. Il 25 agosto gli amministratori sono chiamati a rinnovare il vertice dell'ente di via Berta. Il presidente in carica ha espresso l'auspicio che le coalizioni sappiano trovare sintesi su un'unica candidatura, senza spaccature o conflitti politici. Il 4 domenica, dalle 8 alle 20 e lunedì 5 dalle 8 alle 12, saranno aperti gli uffici per l'accettazione delle candidature dei candidati presidenti con le sottoscrizioni. La legge prevede in un numero calcolato di 90 circa, però meglio qualcuna in più, di firma dei sottoscrittori e quindi un centinaio di firme per ognuno. Il 4 domenica, di firma dei sottoscrizioni,